Piazza San Carlo a Gremita ha assistito al concerto del 2 giugno a Torino con il pensiero rivolto alla tragedia del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna. L'appuntamento è stato organizzato dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con Città di Torino, RAI e Teatro Regio di Torino. Durante il concerto erano disponibili in piazza delle urne, dove sono state raccolte le offerte libere dei cittadini, contributo che sarà ulteriormente rafforzato dalle donazioni che è possibile effettuare su un conto corrente postale aperto per l'occasione.